Casia Smutniak è in armonia con se stessa. L'attrice 43enne a io donna confessa. Senza problemi, a 43 anni non mi vedo invecchiata. L'attrice è diventata un vero simbolo del body positive. Mostrando sui social i segni della vitiligine, malattia autoimmune, e dichiarando di sentirsi forte, amata, bella dentro e fuori. Non sono ostile ai cambiamenti del mio corpo, chiarisce Casia, sposata con Domenico Procacci e madre di Sofì. 18 anni, nata dall'amore con Pietro Taricone, e Leone, 8, avuto dal produttore cinematografico. La Smutniak aggiunge, non mi vedo invecchiata, ma matura. Adesso vedo più aspetti positivi che negativi. Soprattutto se mi guardo indietro. Sono andata via di casa a 15 anni, a 16 ero già indipendente. Oggi, a 43, sento di aver fatto tanta strada e di non dover dimostrare niente a nessuno. Ho passato buona parte della vita a dover essere più intelligente, più forte, più preparata. Per fortuna, nel frattempo, la società è andata avanti. Non posso pensare di ricominciare da capo. Nascondere il tempo che passa sarebbe come rinnegarsi. Protagonista insieme a Pier Francesco Favino del Colibri, film diretto da Francesca Archibugi. Casia Smutniak ha calcato il red carpet nei giorni scorsi alla Festa del Cinema di Roma insieme alla figlia, tra gli applausi del pubblico presente. Bip, 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 bip.